Ci sono stati degli attimi veramente sconvolgenti per quanto riguarda Domenica In, il programma con Mara Venier, e infatti per chi sono stati questi attimi di panico, proprio per Mara Venier. Questo è successo durante l'ultima puntata di Domenica In, dove la zia Mara, più amata d'Italia ormai possiamo dirlo, ha rischiato di cadere e rompersi qualche osso, cosa più volta capitata negli ultimi anni, ma che non deve assolutamente ripetersi. Ebbene, tutto quanto è successo durante il corso di un'intervista, intervista molto discussa tra l'altro di Simone Coccia con l'aiuta, cioè l'ex di Stefania Pezzopane, ma è proprio durante uno dei discorsi del ragazzo che succede il patatrack. In pratica, mentre la padrona di casa stava cercando di rimettersi seduta, semplicemente, è successo qualcosa allo sgabbello e ha rischiato di finire a terra. La conduttrice ha quindi esclamato, mamma mia che paura rivolgendosi al pubblico e rimettendosi a sedere. Scusatemi è, ma io già sono precaria in piedi. Chiaramente tutti hanno iniziato a ridere, soprattutto dopo che la donna ha iniziato a dire qualcosa di incomprensibile in veneziano stretto. E mentre i presenti in studio continuavano a farsela sotto dalle risate, Mara Venier ha provato a sistemare questa criticità dello sgabbello, non riuscendoci. A questo punto però, rendendosi conto che non era una cosa che poteva risolvere da sola, Mara Venier ha chiesto alla regia insistentemente di lanciare un filmato qualsiasi. Cosa sia successo dopo non lo sappiamo, ma sembra chiaro che qualcuno l'ha aiutata a sistemare la seduta. Al ritorno in studio tutto era sistemato e gli animi si erano decisamente calmati, soprattutto quelli della padrona di casa. Tanti gli ospiti della puntata oltre a Simone Coccia con l'aiuta, che ha parlato della fine della sua relazione con Stefania Pezzopane. Nel salotto di Mara Venier c'è stato anche spazio per Rita Pavone, Leo Gullotta, Valeria Marini, Martufello, Pamela Prati e Gabriella Labate. Parliamo della grande e mitica squadra del bagaglino, la televisione spettacolo di Pier Francesco Pingitore. Ma non è finita, perché a Domenica Ince è stata anche la lunga e dolorosa intervista all'attore Fabio Testi. Più tardi è stato il momento di Andrea Sannino, voce insieme a Franco Ricciardi della sigla di Domenica In, in studio con Gigi Finizio per presentare il suo nuovo disco. Una puntata da non perdere, disponibile chiaramente su Rai Play. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.